La Tocca Qui sta a casa, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è. Non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è. C'è, non c'è. Ah, no. Ma qual è il mio seguito del formaggio? Che non c'è, non c'è. Qui è Quintana. È Quintana. Qui sono a te, tu. Qui sono a te, tu. Qui sono a te, tu. Abbassa la fiamma. In fondo. In fondo. Perché se giro, poi dopo non viene su. Non solo agita. Qui sono a te. Qui sono a te. mmm